Ma lei pensa che spaccare la faccia alla gente sia una cosa che mi piace? Prima di decidere chi sono gli innocenti e i colpevoli dovrebbe almeno chiedersi come funziona il lavoro della Celere. Ma in quei momenti c'hai il cuore che te batte forte. L'adrenalina che sale a mille la testa e te rimbomba che sembra che debba scoppiare dentro il casco. Non senti niente. C'hai solo i tuoi fratelli accanto. Solo su quei fratelli puoi contare. L'adrenalina che sale a mille la testa e te rimbomba che sembrava. L'adrenalina che sale a mille la testa e te rimbomba che sembrava. L'adrenalina che sale a mille la testa e te rimbomba che sembrava.